Spirito, se ci sei, dacci un segno. Muovi questo bicchiere secondo la tua volontà. Anna, ma sei sicura di quello che fai? Non è che poi arriva uno spirito maligno? Io ho paura dei fantasmi. Concentrati, Silvano! Devi pensare a qualcuno a cui sei molto legato. Qualcuno che se ne è andato nel mondo dei morti. Sto te parlando di me! Camera Caffè, un nuovo piacere quotidiano. Dal 6 ottobre alle 19 su Italia 1.